Per me il fenomeno che voi rappresentate è inutile. Certamente, di fronte a ciò che ognuno di voi personalmente sta vivendo da incarnato sul piano fisico, noi siamo ben poca cosa, abbiamo ben poca importanza, ma noi vi ripetiamo che ciò che importa veramente non siamo noi e le nostre parole, ma ciò che voi individualmente riuscite a fare delle nostre parole. Grazie.